Buongiorno a tutti, bentrovati, eccoci qua ormai a un passo, antivigilia della gara contro la Roma ma permettetemi di dedicare questa apertura a un amico che non c'è più, un grande amico, un grande tifoso dell'Inter Bruno Arena, dei fichi d'India, che con i fichi d'India ci ha fatto ridere tantissimo soprattutto per chi è un po' meno giovane, pagine indimenticabili, risate ci sentivamo spesso, mi ricordo quando venne a trovarmi negli studi di InterTV che si chiamava Inter Channel ai tempi, lui insieme a Max fecero veramente ridere con me come non mai in tutta la mia carriera, poi in quegli anni andammo insieme a tutta la squadra al loro spettacolo, allo Smeraldo di Milano, insomma ci sentivamo spesso, ci vedevamo quando era qui in zona lui aveva anche il suo ristorante, ci sentivamo al telefono, un grande amico che purtroppo non c'è più e che salutiamo, abbracciamo la famiglia, abbracciamo tutti quelli che gli hanno voluto bene e soprattutto si sono fatti delle risate, grazie Bruno per tutto quello che ci hai dato, grazie ed evitate di fare il suo nome a caso, tirandolo dentro alle vostre fermiamoci qua perché sennò diventò anche pesante perché non si può nominare in vano il suo nome rispetto per le vostre invece teorie, chiamiamole così siamo vicini alla gara con la Roma ma soprattutto si parla essenzialmente del CDA ma di quanto ha stanziato, stabilito, confermato di questo miglioramento dei conti di questo aumento sensibile dei ricavi che fa ben sperare perché da 364 passare a 439 è una cifra veramente molto importante che dimostra quanto si stia lavorando bene nonostante tutte le difficoltà, nonostante comunque anche la passata stagione venne segnata da gli stadi diciamo non chiusi ma riaperti con gradualità poi si legge nella nota diffusa a margine della riunione che adesso a fine ottobre andrà al vaglio dell'assemblea l'azionista di maggioranza ha già manifestato il proprio impegno formale a sostenere il gruppo garantendone il supporto patrimoniale questa è diciamo la dimostrazione dell'aumento di capitale che arriverà entro dicembre come sottolinea il te caldo più famoso di youtube in ogni caso di aumento di capitale si tratta una scelta diciamo obbligata ma che si sarebbe potuto fare anche in un altro momento che conferma comunque che c'è la volontà di proseguire per la pandemia ci sono cinque anni per rimettersi diciamo in carreggiata con i conti quindi si poteva anche rinviare in un altro momento però scelta obbligata anche dal codice civile l'abbiamo detto ci hanno confermato e possiamo dirlo senza condizionale che saranno più di 100 milioni e che arriveranno dal presito di Oktri che era diciamo conservato nella cassaforte lussemburghese quindi grazie a questa liquidità che Steven Zhang mette a disposizione oltre alle spese correnti diciamo si potrà far fronte anche alle avance del Paris Saint Germain per Milan Skriniar per cercare di rinnovare il suo contratto come nelle intenzioni come vi abbiamo anticipato prima di tutti quest'estate nello stesso momento in cui saltò Bremer vi ho detto Skriniar verrà tolto dal mercato e si cercherà di rinnovarlo presto in quel momento lì c'era già un discorso avviato sulla base dei 5 e 5 milioni più bonus che però adesso non bastano più dopo l'offerta importante del PSG in estate la richiesta abbiamo letto ieri sulla gazzetta di 7 milioni e mezzo quella del giocatore però la volontà è pure di farne il più pagato della rosa ve l'avevamo detto con quasi 7 milioni cifre che ci vengono confermate anche che avevamo anticipato tutti dal Corriere della Sera di oggi non il Corrierino dei piccoli Corriere della Sera di oggi quindi si cercherà di convincere Skriniar che mi sembra ben disposto e non col mal di pancia sentire le sue parole ad Azon ma ancora prima quelle al mio microfono in cui forse nell'unica situazione si è sbilanciato e di molto dicendosi ottimista per un rinnovo e ricordando quanto ha fatto durante tutta la sua carriera quanto sia grande il suo amore per questi colori per quella maglia lì numero 37 poi chiaramente molto secondo me dipenderà anche da come andrà questa stagione se l'Inter ripartirà già da sabato contro la Roma andrà magari a fare delle belle prove in Champions si toglierà altre soddisfazioni certo che se l'annata dovesse essere negativa e l'Inter non riuscire a tornare a essere protagonista chiaramente anche lì magari le cose possono cambiare si può decidere di cambiare aria non è da escludere anche un rinnovo per gratitudine e poi vedere che cosa possa succedere in estate come nel caso di Bremer col Torino tutte ipotesi che non escludiamo ma comunque la situazione è migliore rispetto a qualche settimana fa anche perché l'indicazione è stata quella come leggiamo dalla gazzetta dello sport di oggi l'indicazione è quella di rinnovare a Skriniar e di utilizzare quindi questa liquidità immessa nelle casse dell'Inter trasferita nelle casse dell'Inter per cercare di non perdere un giocatore che ha una valutazione importante come vi abbiamo detto però non è interpretabile come questo gran rilancio della proprietà è un buon segnale però ci fermiamo lì e non cambia quella che è la situazione da sfondo cioè l'incarico al Reign Group Reign Group il Reign Group non la Reign il Reign Group a cercare dei possibili investitori tra il suo portfoglio di diciamo investitori clienti contatti che sono importanti dal momento che appunto è stato l'advisor per il cambio di proprietà del Chelsea e che ha portato l'accordata di Boilly a comando dei Blues a questo proposito vi invito a essere presenti su Italia 1 ore 13 sport mediaset vi aspetto dopo e mi raccomando iscrivetevi al canale condividete il video condividete il video e mettete naturalmente like e campanellina per essere avvisati di tutte le nostre novità andate a subito a risentirvi se non l'avete ancora fatto l'edizione straordinaria di ieri sera col Team London che chiarisce appunto come Reign Group sia nato dopo l'arrivo degli Arabi al City a dimostrazione di un'altra mega fake news clamorosa ma neanche fake perché vi dimostra l'impreparazione l'ignoranza di tutti questi personaggi ormai davan spettacolo cabarettisti che non sanno neanche guardare Wikipedia quindi Reign Group sta cercando sta offrendo diciamo l'Inter a una serie di possibili investitori poi come vi abbiamo spiegato nel video di ieri sera alla proposta migliore verranno fatti esaminare i conti due diligence e poi ci si darà al tavolo per la trattativa domanda offerta e si vedrà se si troverà un accordo sul miliardo e due richiesto da Zhang che sembra una cifra fuori mercato per qualcuno per qualcun altro no è iniziato il dibattito su San Siro dicono che non si possa ristrutturare l'ha detto Scaroni noi vi faremo invece capire che è fattibile si può però mi sembra che tutto vada in direzione di una demolizione totale una qualcosa che non rientra diciamo nella nostra filosofia nel nostro amore per la scala del calcio che secondo me va salvaguardata così come si è fatto in Spagna con il Bernabeu ristrutturato che verrà trasformato in un'astronave tra l'altro con tutto quel meccanismo da azienda italiana di di rientro del terreno di gioco che poi può diventare un parquet per il basket può diventare un campo da football americano un campo per il tennis un luogo per convegni concerti così come si potrebbe fare per per San Siro vediamo anche qui che cosa accadrà a breve non aspetteranno oltre dicembre l'hanno fatto capire in caso contrario non si sbloccasse la situazione sono pronti Inter e Milan a prendere in considerazione altre aree altri progetti tutto da verificare e vedere situazione situazione campo per il per mister Rabona mister Rabona c'è evidentemente è stato un qualcosa che ha consigliato di frenare sul recupero di Lukaku ma non stiamo qua a spiegare a un cialtrone che non conosce neanche cosa sia un'arabona e un elastico cosa dobbiamo spiegargli come si recupera un giocatore gli esami i controlli hanno consigliato di andarci piano perché non era la situazione completamente ristabilita come nel caso di Cialanoglu a dimostrazione settimana scorsa era molto più avanti già in campo Lukaku rispetto a Cialanoglu che aveva col belga che aveva già iniziato a lavorare col pallone mentre Cialanoglu era ancora chiuso in palestra poi tutto lasciava a pensare a un ritorno in gruppo invece dopo gli esami anche qualche sensazione non ottimale del giocatore si è rallentato il tutto quindi escludiamo a meno che non ci sia un miracolo tra oggi e domani una sua panchina anche con la Roma e probabilmente anche col Barcellona però qui aspettiamo di vedere i prossimi allenamenti per le previsioni del futuro non siamo ancora attrezzati ci sono degli inconvenienti delle problematiche naturalmente come normale che sia ma solo chi ha fatto finta di giocare a pallone non le può capire quindi Dzeko Lautaro che è rientrato nella notte grazie anche a un collegamento charter che gli ha permesso di dormire a casa lui è Correa e oggi di allenarsi con i compagni quindi faranno due sedute insieme alla squadra per prepararsi alla gara con la Roma Dzeko Lautaro in attacco Aslani è stato risparmiato da Reia e non ha giocato non è stato messo a rischio con l'Albania però bisogna capire oggi e domani le intenzioni di Nzaghi potrebbe decidere di non rischiarlo nella nel cattino rovente che ci sarà sabato sera per la sfida con la Roma o anche se adesso starà al tecnico a noi piacerebbe vedere un Aslani titolare però è comprensibile anche una scelta diversa con Mkhitaryan a fare il playmaker con Barella e Gagliardini e Cialanoglu come alternativa con Aslani in panchina da vedere serve però qualità la Roma nel frattempo ha recuperato Pellegrini e aspetta l'ok per Di Bala che è stato preservato da Scaloni con l'Argentina anche lui in dubbio un po' strano scherzo del destino che possa che possa non vedere nessuno tra Lukaku e Di Bala che si sono sfidati per la maglia nera azzurra in campo sabato a San Siro non ci sarà neanche Murigno squalificato dunque la situazione è questa brevissimo angolo del Cialtrone perché ormai non hanno neanche bisogno più di replica certe cialtronate come c'è Reingroup è di Pif Reingroup ha portato gli arabi al City quando non era ancora stato non era ancora nato il Reingroup o ancora pensate come sono ridotti male abbiamo preso in giro il loro compagno di merende la capra ossigenata ignorante con fantomima e loro pensano che l'abbia detto io mamma come siete ridotti male ma non non avete più nessun tipo di argomento non avete più nessun tipo di argomento iniziano a a rantolare a ragliare continuano a ragliare offendendo perché non hanno più nessun tipo di altro argomento quando abbiamo smascherato qualsiasi minchiata scusate il francesismo per quanto riguarda digital beats lo leggeremo adesso tra poco sui giornali dovrebbe scomparire dalle maglie siamo stati i primi i primi a dire che ci fossero dei problemi ma cosa volete spiegare a chi ha difficoltà con la lingua italiana e anche a comprendere e non sa neanche di cosa stiamo parlando cosa volete spiegare quelli che che vi dicevano che ci sarebbe stato Aramco sulla maglia dell'Inter a quelli quindi adesso occupiamoci di cose molto più importanti poi tutto il rispetto per le scuole serali e chi con fatica si sia potuto conquistare un diploma una laurea con dei corsi serali magari lavorando ma ci mancherebbe altro questi cialtroni che non hanno rispetto di niente e di nessuno comunque quando sarò per qualcuno dei miei corsi in università vi vi inviterò così magari imparate qualcosa di comunicazione di giornalismo di social chiudiamo e andiamo avanti e presto faremo anche un approfondimento sul tema stadio molto che ci sta molto a cuore per cui abbiamo fatto un bel reportage anche sul nostro sito www.marcoparzaghi.com mi raccomando è questo diciamo anche l'obiettivo del nostro progetto di comunicazione a 360 gradi che non è solo questo canale o gli altri social ma vede il nostro sito come modo per far crescere tanti tanti giovani e per darvi un prodotto di qualità un compagno per le vostre giornate dove poter ritrovare le notizie più importanti trattate come piace a noi come piace a voi con imparzialità e dove sapete di trovare una una sana comunicazione facendo anche crescere in questo laboratorio giornalistico tanti ragazzi appassionati che fanno sicuramente bene a tutti anzi se ci fosse tra di voi qualcuno che vuole entrare nel nostro team che si sta allargando visti i risultati che stiamo ottenendo contattateci anche in privato e vedremo di mettervi alla prova ed inserirvi nei nostri nella nostra redazione o anche nella gestione del sito dei social o quant'altro visto che i numeri sono abbastanza importanti non so se avete dato un'occhiata per quanto riguarda i vostri messaggi andiamo a leggerli un po' prima di andare in edicola a fare un punto della situazione vostri messaggi che arrivano sempre numerosi mi raccomando iscrivetevi al canale e rispondete con i numeri a chi vi dà dei criceti dei dementi come solo gli ignoranti e i cialtroni possono fare intanto tutti i complimenti per il team di Londra e tutti diciamo i messaggi come quello di Anthony Magnoni svegliarmi e trovarmi un'edizione straordinaria il miglior buongiorno grazie adesso ascolterò le vere notizie fell in blue angel addirittura dal messico impagabile il servizio che ci offre un abbraccio il regno del pdf pifferai ci farebbero una buffata perché ne abbiamo fatti vedere diversi di pdf quindi girerò tutti i complimenti al team london e vediamo altri sempre Anthony Magnoni ci scrive prima leggo Zhang vende poi leggo Zhang raddoppia ma siccome non ci capisco più niente decido di chiudere le pagine dei giornali e decido di andare a leggere vedere sentire i tuoi video live finalmente dico meno male che esistono persone competenti affidabili come te amici interisti spargete la voce perché la vera notizia è solo su questo canale grazie Anthony grazie a tutti voi che naturalmente sapete distinguere chi fa informazione da chi vi racconta una miriade di cialtronate da Lukaku allontanato per un diverbio con Inzaghi e salta pure la Roma e forse anche il Barcellona ma capite di chi stiamo parlando da chi vi dice che Reingroup ha portato gli arabi al city che non era neanche stato ideato questo questa banca d'affari e poi ancora Milinkovic Savic Son Donnarumma proprio così poi prima vi dicevano che Aramco fosse dietro il mercato avesse deciso il mercato estivo dell'Inter quando sembravamo supermercato poi quando si è stoppato tutto ah no non è ancora arrivato sono già dentro ma no stanno arrivando molta confusione arrampicate sugli specchi mamma mia meno male che ve ne rendete conto secondo me l'intervento di Zhang potrebbe non significare la volontà di rimanere ma piuttosto il contrario dice Michele da Madrid tu che ne pensi stiamo alla finestra non escludiamo nulla per vendere deve esserci l'offerta giusta l'abbiamo detto arrivare avvicinarsi al miliardo e due richiesto se no e lo dimostra anche la la protesta della curva non è già stato definita assolutamente niente non c'è glass trust ve l'abbiamo spiegato ulteriormente ieri sera smontando qualsiasi tipo di elucubrazione di chi non conosce veramente la materia e che vi dopo il pdf vi vuole vi vuole dare un'ulteriore mozzarella di bufala ma vi diamo gli strumenti per in mano per fare poi una valutazione da parte vostra paolo in questo periodo ci sarebbe da argomentare riguardo troppi ambiti della materia inter attualmente mi preme solo il campo e non lo specifico il big match con la roma mi auguro ci sia finalmente spazio per la slania altrimenti poi qualcuno ci dovrà davvero spiegare perché sia stato tesserato un giocatore che non viene mai preso in considerazione però paolo te ho spiegato può esserci anche la volontà di preservarlo e di non buttarlo nel cattino rovente di San Siro tanta riconoscenza dalla famiglia Zhang per aver riportato l'Inter a vincere uno scudetto scrive Meg Crano però se non possono più investire giusto che vendano aspettiamo a questo proposito anche anche il cosa deciderà il prossimo congresso del partito comunista cinese Antoine invece ci scrive ma c'era bisogno che Di Marco facesse due buone partite nazionali per capire che deve giocare da esterno e non da braccetto Andrea Figus invece ci sottolinea una cosa che è un po' passata inosservata si parla sempre di debiti crisi perché non sottolineare che l'Inter è stata premiata a Istanbul come prima squadra in Europa nella crescita del settore giovanile sia maschile che femminile bravo Andrea Alessandro si associa anche alle condolianze che ripetiamo per la famiglia di Giancarlo Beltrami che più volte lui aveva visto nella sede ancora in Foro Bonaparte quando andava a fare tanti anni fa l'abbonamento allo stadio Mario Violante ci aspettano dodici partite da Thrilling forza e coraggio un periodo ancora più incandescente in arrivo Roberto ci chiede ma se il presito a OCTRI non viene pagato l'Inter passa ad OCTRI se dovesse succedere questa eventualità quindi parliamo di maggio 2024 se l'Inter non verrà venduta prima se non verranno sbloccati gli investimenti all'estero dalla Cina se si realizzeranno tutte queste con cause potrebbe anche essere possibile ma credo che non si arrivi a quel punto piuttosto o si sblocca qualcosa dalla Cina ma mi sembra difficile o più che altro ci sarà una vendita come si sta cercando come dimostra il mandato al Reign Group Reign non Reigny innanzitutto Frank Nerazzurro condolianze alle famiglie Beltrami Bolchi e Arena giusto anche maciste Bolchi per la perdita dei loro cari tre giorni si torna in campo per fare una full immersion sino al mondiale oggi sui social tutte notizie della ricapitalizzazione della società tutti esperti di finanza noi tifosi sosteniamo sempre i nostri giocatori e chi e chi è più esperto e sa fare questo tipo di lavoro ti aspettano numerose live per spiegare la manovra della famiglia Zhang pronti buongiorno strano questo infortunio a Lukaku un mese fuori senza lesione davvero tanto ci sono delle problematiche poi non dimentichiamo il fisico pesante imponente la muscolatura importante di Romelu poi a differenza di Chalanoglu lui non può neanche rischiare un minimo di perdersi il mondiale perché non avrà poi più un'altra occasione probabilmente quindi un motivo in più per andarci con i piedi di piombo poi vi ho spiegato non ci sono state le sensazioni giuste Tony Sanna concludiamo col suo messaggio ringraziando tutti anche Stefano Catani che vuole entrare nel nostro team porte aperte per chiunque vuole dare il suo contributo devo rinnovare i complimenti per il Barza team professionisti seri e veri un appunto agli interisti pessimisti cosmici agli intertristi vi prego basta dobbiamo stare vicini alla nostra inter anche perché ci aspetta un periodo veramente difficile e bisogna trovare una ripartenza un modo per ripartire per ritrovare la squadra dell'anno scorso grazie a tutti a Fernando Mariotti a Gabri Melody Notes Mario Loriso tutti i nostri abbonati Luciano Pazzo e grazie per sostenere il nostro canale il nostro progetto di informazione il nostro modo di fare educazione informazione con educazione con rispetto a parte di chi vi vuole raccontare delle favole per prendervi per il culo su quelli non abbiamo assolutamente pietà ed è la nostra battaglia quotidiana fin dai tempi di Cialtron Eston il padre di tutti loro andiamo un po' alla rassegna stampa non c'è solo il problema screener e rinnovo c'è anche quello Leao e lo vedremo adesso anche sulla prima pagina della Gazzetta quando non ne parlava nessuno noi vi abbiamo già messo al corrente insomma che non è così semplice che ci sono City e soprattutto Chelsea in agguato Di Bale in panchina Milan gioca a Ballotouré per quanto riguarda Lukaku sempre a parte l'Inter si affida ancora a Dzeko e Lautaro poi il CDA 140 milioni di perdite Zank prepara il maxi aumento di capitale che sarà più di 100 milioni credo circa 110 quindi poi rimarranno circa 85-90 ancora nella cassaforte lussemburghese dal prestito di Oktri Milan si complica il rinnovo di Leao lo leggiamo su Sport Mediaset e anche in prima sulla Gazzetta dello Sport dove troviamo la faccia di Skriniar il progetto Zang secondo la Rosia Skriniar ecco i soldi il titolo Zang ai dirigenti deve restare all'Inter il presidente con gli oltre 100 milioni di finanziamento dà l'ok per prolungare col difensore e respingere così il Paris Saint Germain Lukaku altro rinvio salta anche la Roma rischia pure il Barcellona Milan per Leao ne servono 65 inizio allo Sporting ingaggio e le minacce di Chelsea e City il tempo comincia a stringere ecco i soldi ora ci sono e anche senza rinnovo pronto un altro no al PSG dal presidente via libera per prolungare col difensore a gennaio nessuna cessione al che Laifi respinto quindi dopo che ci hanno detto che partivano tutti anche probabilmente a gennaio cambio di marcia ora si può fare se poi accadrà dipenderà da screener adesso le possibilità ci sono i soldi ci sono non è banalizzare un tema ben più ampio ma è la conseguenza più visibile di quanto è emerso dal CDA dell'Inter almeno dal punto di vista puramente sportivo o meglio da quanto Zang si è impegnato formalmente a fare versare tramite finanziamento soci una quota da almeno 100 milioni di euro la cifra esatta sarà stabilita il 28 ottobre per l'assemblea dei soci entro il mese di dicembre ci sono le risorse per rinnovare il contratto dello Slovacco in arrivo dai famosi 275 milioni del presto di Optri i margini operativi sono dunque maggiori per i dirigenti San Siro inizia il dibattito pubblico Sala è ora di prendere una decisione io sarò in silenzio i 100 milioni entro fine 2022 in più tranche salgono i ricavi Digital Beats ormai è rottura entro ottobre il marchio sparirà dalle maglie della squadra e poi si parla appunto dell'aumento di capitale che quello è Romelu resta fuori salta la Roma e Barca a rischio Lukaku niente mo invece un sorriso per Cialanoglu che recupera oggi Inzaghi rivedrà tutto il gruppo nei primi due anni interista il Belga aveva saltato 5 partite ora siamo già a 6 si mette anche la sfortuna mi raccomando ore 13 Sport Mediaset e poi stasera in live rivedetele e poi Grazie a tutti.